ciao a tutti ragazzi siamo là e ora vedo un nuovo video ciao a tutti e ciao alla mia bellissima stupendo vai oggi amore video e la la non morirmi allora oggi non faremo la quiz challenge con le marmellate tranquilli non c'è scritto il gusto anche perché già io un po' dal colore un po' ho capito che tipo di marmellate sono e ragazzi ci credo ho un campo cioè abbiamo un campo spesso c'è quasi sempre mangiare marmellate ma anche dal colore dico ok però ovviamente raga che fredde ovviamente raga per ovviamente non abbiamo la venda quindi ovviamente nel momento in cui prendo la marmellata me la metterò sulle labbra no perché poi sono io che vengo lì da te e ti bacio perché non c'è niente proviamo io non lo so però vi mentite veramente giù sì per la mia sfida ok ma è tutto curioso chiudi gli occhi sennò e amore spiega sennò fa ma vada a assaggiarla no allora amore cioè senti amore per fare quello che vuoi perché cosa fai se voglio no cioè sinceramente io non lo farò io mi salito poi di frigo una barra di marmellata eh eh dai però chiudi gli occhi sennò hai visto il mio tipo di cose no chiudi per quello non è che si capisce amore chiudi amore dai amore non fai a rio vieni qua amore è un po' aspera eh lo puoi mettere ancora un po' per favore forse hai capito è un po' per favore lo sai o se sì ok ops io lo so perché ce l'hanno detto è aspro ma se senti ha il gusto aspro frangola no aspro allora è arancia rossa io rendi io sono un'arancia rossa allora è cilicia no è ribes ma mi ha assaggiato è ribes io per il russo ho detto l'ha fatto mio zio a marina no perché ho detto a marina e a malicia è arancia rossa e a valore sono assaggiata e aspra e anche fraguardo è ribes di mio zio anche ha fatta lui che ha proprio la pianta di ribes su sì è che ribes adesso che devo assaggiare no a me piace buonissima mamma mia una piantina vorrei mettere a cambiare proprio ribes ma ok quindi hai fatto tu puoi farlo anche con me cioè mettila metti tu che non guardo così anche io voglio su no prima faccio un temore poi dopo in turno faccio un dopo io ok quindi li faccio ancora io va bene e per te lo sai sì lo so se io dopo non devo dirti nulla cioè io non ne so è normale che ti amare di liquidare subito gli occhi e vado cioè io anche adesso posso anche guardare tanto non so che marmellata è però spiega sembra sangue guarda che poi mi spurgo dai è dolce questa mora sì non sapevo ragazzi lo sapevo perché avessi subito che era così è mora in questo video il mio maricchino mangia vedi che brava che sono più buona no mi sto subito che ho lasciato che era mora perché cioè ho visto subito con lui e ho detto vuoi venirti lui è mora bravo amore dovresti fare un favore se mi riesci a aprirmi questa perché l'hanno sigillata e io non so puoi aprirla come è sigillata no no sto scherzando amore no è sigillata no no è solo che non so chi la chiuda così veloce così forte non riesco a fartela c'è no non la provo cosa questa fa purtroppo niente lo sai che l'amore quella arancia dimmi a cucina ecco comunque ah questo ho capito io sì ma si sente fin è un frutto io non mangio è un frutto io mangio quale questo qua no no ti piace ok c'è lo senti subito eh no no non sai cos'è no è vero bravo che non è che l'ho sentito molto e perché sai cos'è fico sì ho capito però è buona dai mamma mia no perché quello che mi sembrava di più un un kiwi ma sai cosa sembrava un inizio una prugna sta roba no a me sembrava un kiwi infatti è un frutto che io mangio no stra buono ecco non ho male sono felice ok adesso tocca a me ti passo le cose vai vai e vai ok e ti evo che io chiudi gli occhi amore però avvisami nel senso quando hai fatto ok certo amore perché ho gli occhi chiusi guarda che tanto sicuramente sono le stesse quindi dimmi quanto hai fatto no ribes giusto eh sì è rosso beh dai ero un po' indecisa perché però è buona vai ti giochi amore ma tanto cioè non so anche quello che stai scegliendo potessi anche aver preso un'altra non vedo niente oh no mi sono sporcata chiusi amore fico esatto ok vai mi sono giocco amore ok mora Vabbè, un po' mi pulisco bene, a posto, sono buonissime tutte, mamma mia, è proprio un cucchiaio in amore, vai vai prendi prendi, sono forti più play, almeno, capite, io lo ho dato prima a lui, no scherzo io, ah che buona, buona, buonissima amora ok, a posto, c'è un grande di tuo zio giusto amore, mio zio ha fatto questa che è Ribes, amore, questa qua l'ha fatta mia nonna, questa qua è mia cugina, donna Maria, Maria perché veramente non sa fare le marmellate, no, 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 ormai con gli anni ha perso un po' come si fa, mia nonna Maria le sa fare anche adesso, vabbè dai, quindi, mamma mia, sì, sono buone, quindi se questo video vi è piaciuto mettete tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi, fateci sapere qual è il tuo cibo, ovviamente, vorreste che facessi un altro challenge ovviamente io ve lo dico, le olive sarà difficile, perché, cioè, a meno che, ovvio, a meno che metti un buco e un'oliva, sarei così la prenderà, per quello sarà un po' difficile e nulla, o, cioè, e anche altri cibi, comunque, fateci sapere un po' voi nei commenti quali, appunto, cibi, cioè, comunque, anche a voi, comunque, vi piacciono e ci dite, non so, ci piace, non so, faccio un esempio e il kebab, ok, noi prendiamo, non so, il panino kebab o un qualcosa o una salsa e la proviamo esatto e nulla, e noi, ovviamente, attivate, mi raccomando, la campanella, per non perdere nessuna dei nostri video mi raccomando, condividete il video dappertutto e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video ciao